E' chiarissima, è così luminosa, in tutte le scritture viene annunciata la morte e la resurrezione di Gesù, nel Salmo 16 è scritto tu non farai decomporre il mio corpo nella fossa, parlava di Gesù, infatti noi ci decomporremo ma Gesù non si è decomposto, Dio non ha permesso che suo figlio si decomponesse ma l'ha risuscitato il terzo giorno, indubbiamente quando Gesù lo diceva i discepoli benché stessero vicino a lui non afferravano, sembrava impossibile che il loro maestro dovesse morire e poi risuscitare, per loro Gesù era invincibile, immortale, inestinguibile, è come quando i figli pensano che i papà sono quelli più forti del mondo e quelli che non moriranno mai pensano sempre così ma poi alla fine si rendono conto che la vita va avanti e il ciclo della vita ci insegue e camminerà, ha camminato e camminerà ancora, quindi i discepoli non afferravano la risurrezione di Gesù, ancora oggi si fanno tante discussioni sulle religioni ma quando voi dite Gesù è risorto, il Signore Gesù è risorto lo sai, cominciano a sbandare, cominciano perché devono credere qualcosa che è al di sopra di ogni ragionevole pensiero e oltre la logica c'è una tomba vuota, c'è un uomo che è stato risorto e c'è qualcuno che non c'è più sulla terra e che vive dentro di noi, è un messaggio straordinario dire Gesù vive, Gesù vive dentro di noi e i discepoli e noi dobbiamo comprenderli perché a volte facciamo anche difficoltà e ora vi spiego quali sono le nostre difficoltà o le vostre difficoltà, quelle che erano le mie che per certi aspetti ho superato quindi posso indicarvi, le donne si recalano a sepolcro, ringraziamo Dio per le donne che stavano vicino a Gesù, in Luca 8 c'erano molte donne, sorelle per voi stare vicino a Gesù doveva essere qualcosa di fantastico, dovevano sentirsi amate, rispettate, occhi puri che le guardavano, nessuna malizia negli occhi, nessun gesto fuoriposto, niente, nessun occhiolino, dovevano sentirsi profondamente rispettate, amate, onorate, come Gesù ha onorato le donne, nessuno le ha mai onorate, sorelle cari, voi dovreste amare più di noi Gesù, perché se c'è qualcosa nel mondo occidentale che ci distingue dagli altri mondi, africano, induismo e via discorrendo, è proprio l'elevazione della donna, proprio tramite Gesù, nonostante la società sia corrotta, ha subito l'influenza del cristianesimo da anni, ha elevato la condizione della donna e le donne si recarano per rendere omaggio, era cosa di donne non di uomini e si recarano portando gli aromi, volevano ancora fare del bene a quel corpo che aveva fatto tanto bene a loro, loro avevano sentito anche loro che sarebbe risuscitato, ma gli sembrava impossibile, ma è naturale fratelli e sorelle, se noi afferrassimo il pensiero che Gesù è risorto, affronteremo tutto, ogni difficoltà, ogni tragedia, ogni malattia, ogni intoppo della vita, con un animo veramente diverso, propositivo, non che subiamo, ma propositivo. Le donne vanno e non hanno bisogno di spiegazioni, allora devi sapere una cosa, all'epoca non c'erano chi dava spiegazioni, nessun uomo poteva dare spiegazioni a queste donne, quando non ci sono uomini e quando non ci sono donne che possono dare spiegazioni, perché la Chiesa è deputata a dare spiegazioni, sapete Dio cosa fa? Prende gli angeli e dice vai ad aiutare i miei fratelli, le mie sorelle. Siccome non c'era nessuno che poteva spiegare questo, chi doveva andare a dire, chi poteva portare il messaggio alla Chiesa? Cioè, i angeli che occupano, guardate fratelli, se qualcuno che non è credente vi dice che parla con gli angeli, dubitate, non sono angeli, sono spiriti malvagi, perché gli angeli veri parlano solo con i credenti, vengono, sono spiriti ministratori a pro di quelli della Chiesa, gli angeli parlano con noi, con me, con te, con la Chiesa, vengono ad aiutarci, a sostenerci, sono nostri collaboratori, comprendete fratelli? Abbiamo l'esercito celeste, quello che vide Eliseo, disse vicino al servo, guarda bene, siamo circondati, c'è un esercito, guarda bene, si aprirono gli occhi e vide i carri del Signore che erano migliaia attorno a Lui, è vero, voglio dire, noi non li vediamo, oppure abbiamo gli occhi a terra, o siamo presi, dovete pensare che chi non crede in Dio è così preso dal proprio egoismo, dalla propria cecità, è così impestato di peccato che non può capire gli eserciti che ci stanno attorno, chi invece ha il Signore nel cuore lo sa che il Signore interverrà, lo sa che c'è un esercito attorno a noi, lo sa, lo sa che in qualche modo qualche cosa farà, è vero? Allora mandò gli angeli in vesti sfolgoranti e fece una domanda, e questo voglio aiutarvi, quello che dicevo prima, perché cercate il vivente tra i morti? Allora innanzitutto Gesù non è morto, è vivente, vabbè, ma perché sta, sorella, fratello, perché parli ancora, perché ancora cerchi di ricavare dai morti qualcosa di vivo, sai vivo che cos'è? Il vivo è colui che ha luce, è colui che è dinamico, ha voglia di vivere, vede la vita, ama il Signore, guardate, Gesù disse io sono la resurrezione e la vita, quindi solo chi ha Cristo ha la vita, ha voglia di vivere, ha voglia di partecipare, ha voglia di mettersi in discussione, ha voglia di amare perché Cristo ti fa fare tutte queste cose nella vita, la presenza di Gesù nella tua vita non è solamente il vivente, il vivente significa amore, luce, pace, gioia, è una serie di vita che è attorno a noi, è una serie di virtù che entrano dentro di noi, quando Gesù è vivente nella nostra vita tutto è vivente, tutto è vivente, il mare diventa vivente, la vita diventa vivente, il sole, ogni cosa che vedi sembra che è l'odile eterno, come dice il salmista, dice ma guarda il sole, è nelle mani di eppure il sole non ha tanta luce quando l'ha Dio e quindi prende un po', la vita prende un'altra piega, un'altra dimensione, allora perché ti affanni? Gesù disse pure una frase che sta a volte noi non vogliamo, perché lasciate i morti? La conosciamo a memoria, perché cercate vivente tra i morti? Cioè perché venite in mezzo ai sepolchi? Perché andate da persone morte che non vogliono sapere nulla di Gesù, non vogliono neanche aprire il cuore, non vogliono fare niente, sono anni che gli parlate, sono mesi che gli parlate, sono decenni e non capiscono niente, sperate ancora fratelli e sorelle, io voglio dirvi una cosa, andate dalle anime nuove, andate ad annunciare il ravvedimento e il perdono a chi non lo conosce, andate da coloro che non sanno proprio niente, non sanno neanche che la Bibbia è composta da Vecchio e il Nuovo Testamento, andatele a visitare, spendete il tempo con loro, perché quelli che l'hanno già ricevuto da tanti anni e che lo conoscono da tanti anni, lasciate stare, questo vi può aiutare, vi può aiutare anche un'altra cosa, è Dio che fa l'opera, se Dio la vuole fare la farà, noi porteremo sempre una buona testimonianza dovunque andiamo, porteremo luce dovunque andiamo, ma dovunque andiamo dobbiamo stare sempre attenti e fare il possibile di non stare in mezzo ai sepolcri, di non andare a guardare delle tombe, a intrateci, sapete perché? Perché perderemo solo del tempo, stiamo perdendo tempo, perché cercate il vivente dei morti? Egli non è qui, egli è in Galilea, fratelli dove bisogna, un'altra cosa voglio dire, dobbiamo cercare il vivente, perché cercate il vivente? Significa che dobbiamo cercarlo, è vero? Quindi tu devi cercare il vivente, devi cercare, ora vi voglio dire una cosa, i vivi cercano altri vivi, è una cosa incredibile, i vivi vengono attirati dai vivi, cioè cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo un'attrazione tutti quanti, avvertiamo, un'attrazione filiale che ci è stata donata dallo Spirito Santo, i vivi vengono attratti dai vivi, noi ci amiamo perché veniamo attratti dalla presenza del Signore, il vivo attira il vivo e anche le persone che non hanno Gesù, ma che dentro hanno l'altare di Cristo, ossia che il Signore li sta preparando, vengono attirate da te e tu parli loro e loro sentono che si sentono attirati da quello che tu dici, è un miracolo che Dio fa ancora nel 2017, è un miracolo che Dio fa ancora. Allora fratelli, noi dobbiamo cercarlo, dobbiamo cercarlo ma non, ma non in una tomba, noi non dobbiamo cercarlo in una tomba, dobbiamo cercarlo dove lui è vivente. Scusate, dov'è l'agnello? Coraggio, dove sta? È in cielo, è in cielo, o è nei miei fratelli e nelle mie sorelle o è in cielo? Giusto? Io lo cerco in cielo alla sua presenza e cerco lui, e cerco lui, Signore, voglio stare con te, parlo con lui, è la mia fede, è la tua fede, sai cosa ti dice? Il Signore mi ha ascoltato, ho portato la mia istanza sul tavolo dell'Eterno, ora lui dirà sì o no, ma l'importante è che l'ho portato e ho parlato con lui, il fatto che io l'abbia portato mi deve rassenerare, cioè io ho consegnato la pratica al Signore, eccola qua, ho preso la mia pratica, sta nelle mani di Dio, Signore tu dirai sì o no, non mi interessa, io so che è nelle tue mani e il no sarà benedetto e il sì sarà benedetto, qualunque sia la risposta la tua benedizione non mancherà, è giusto? Questa è la nostra fede! Allora, le donne dovettero correre indietro, erano stranulate, però furono i primi a portare, le prime a portare questo grande messaggio agli apostoli, che bello, le donne che portano il messaggio a uomini i quali avrebbero tra, di lì a poco tempo, a 50 giorni a Pentecoste, inaugurata la chiesa, queste donne le portano e sembrava un'assurdità dice la parola, è incredibile, i discepoli rimassero, glielo aveva detto Gesù, ma sembrava talmente un'assurdità che loro non riuscivano a capire, Pietro Corse, Giovanni Corse, si erano dimenticati Gesù a Lazzaro cosa aveva detto, vi ricordate? Io sono la resurrezione e la vita? è vero, chiunque crede in me, anche se è morto, vivrà, è vero, aveva detto io vado a Gerusalemme a dare la mia vita, il terzo giorno, il segno del profeta Giona, quante volte Gesù l'ha detto? Cioè, è come dire, tante volte qualcuno ti parla e tu non senti, è normale? È normale, vi capita, fratelli? Quante volte vi hanno parlato e poi dopo avete detto, ma è vero, a distanza di anni, pure con me è successo, quante volte mi hanno parlato e a distanza di anni ho dovuto dire, ma era vero, mi sono intestardito di fare testa mia, ma era vero quello che mi dicevano, è vero e anche loro non l'afferravano, possiamo comprendere questi grandi uomini, amè? Ammirarli, fratelli, ammirarli, perché loro nonostante non capivano, non riuscivano a capire, era un loro limite, però corsero alla tomba, Pietro e Giovanni, io mi sono sempre chiesto, ma perché Tommaso non ha corso, perché Natanaele non si è fatto una bella corsa, perché non sono andati anche gli altri? La risposta è che questi due furono colti da un impeto, voi sapete che Pietro era impetuoso, Pietro non non si teneva nulla, rispondeva a tu per tu con il Signore, prendeva iniziative e Giovanni era colui che meditava, era l'apostolo della meditazione, riusciva a meditare più a lungo, entrambi corsero, entrò Pietro, rimase meravigliato, entrò Giovanni, vide e credette, capì di come erano piegate le lenzuola, l'ordine e lui capì che il Signore era lì sotto, perché Gesù era ordinato, sorelle e fratelli, siate ordinati, però ordinato non significa secondo la vostra testa, sorelle, voglio dire una parola, perché nel mio disordine io sono ordinato, cioè io non voglio essere ordinato, perché altrimenti perdono i miei punti di riferimento, cercate di comprendere che il vostro ordine non è il nostro e il nostro non è il vostro, noi abbiamo ordini diversi, però è sempre un ordine, non è qua, è in Galilea, Pietro credette e i discepoli tornarono e cominciarono a discutere su questo, ma è risorto, non è risorto, Gesù appare a un certo punto, io vi ho letto l'ultima parte dei discepoli sulla Via dei Maus, perché ve l'ho letta? Perché questi due discepoli rappresentano un po' tutti quanti noi, stanno facendo un percorso, credo che siano una ventina di chilometri o una decina, non lo so, stanno camminando, è come se camminiamo e cominciano a dire, ma tu lo sai quello che è successo? Ma Gesù è risotto, hai visto cosa dicono? Ma tu che ne pensi? Io che ne pensi? si fanno una bella passeggiata, come oggi si facciamo una bella passeggiata in macchina e cominciano, ma tu che dici? Ma tu che pensi? Ma tu che fai? All'improvviso, mentre stanno discutendo, incontrano un altro viandante che non riconoscono, ma che è successo a Gesù? E Gesù nella sua grande flessibilità, che insegna a noi come parlare alle persone, a non dire, a capirli, perché Gesù li capisce, si affianca, dice ma di che cosa state dicendo? Era lui che era risorto, lui che era morto e si fa raccontare dagli altri quello e poi lui, ma sentite fratelli, ma che pazienza che ha Gesù. Guardate, vi voglio dire una cosa, io prendo forza da questo perché quando non capisco, mi metto a parlare, dico anche quando non capisco certe cose e parlo con qualcuno, Gesù si avvicina e poi dice ma ora te le spiego io piano piano. Non ha importanza, voglio dirti una cosa, se non comprendi tutto, alcune cose, alcuni concetti, alcuni principi non li capisci, Gesù si accosterà a te e te le spiegherà. Gesù ti accosterà a te e per lo Spirito Santo te le spiegherà. Gesù quando vede che due persone vogliono investigare, vogliono capire, non li lascia senza luce, ti aiuterà, ti darà la luce necessaria. Quando il ministro di Candace, stava solo lui nel deserto, non capiva, stava leggendo i 6 a 53, sapete cosa fece Gesù? Prese Filippo e lo mandò da lui, doveva capire anche lui. Se tu cerchi veramente il Signore, tu lo capirai, lo capirai, lo capirai. Solo chi non lo cerca con tutto il cuore, non lo afferra. Ha detto il Signore, chi mi cerca, mi trova. È la sua parola, lo troverai, lo troverai, lo troverai. Chi ha chi bussa sarà aperto, sarà aperto, sarà aperto quando busserai e quando dirai, Signore io non capisco, vorrei capire, vorrei luce, Signore aprimi, aprimi, lui ti aprirà. Sai perché? Guardate Gesù cosa fa a questi uomini che non comprendevano. Lui parla di tutto, parla da Mosè ai profeti e salmi delle sue profezie, gli fa vedere i 6 a 54 e dopo questa bella chiacchierata, sapete cosa hanno bisogno dei discepoli? Gli aprì la mente. È mai possibile, dopo che si è fatto una bella passeggiata con Gesù, ha parlato con Gesù a tavola, Emanuele, ancora avevano la mente chiusa. Uno sta da tanti anni in chiesa, ascolta tante belle parole, si prega, si canta e ancora non afferra. Ci vuole uno che ti apra la mente. Senti, voglio dirti una cosa, solo Gesù ha la chiave della tua mente. Gesù è l'unico che ti può far comprendere quello che lui è. Quindi se vuoi capire chi è Gesù devi fare solo una cosa. Signore, aprimi la mente, aprimi la mente. Entra nel mio cervello. Molte volte noi parliamo di cuore, noi siamo sentimentali, noi napoletani. Diciamo il cuore come ti amo, no, non è solo il cuore. Vuoi essere amato marito, moglie, solo con il cuore. Io voglio essere amato da mia moglie anche col cervello. A me non mi interessa una donna che mi ami solo col cuore. Voglio che mi apprezzi, apprezzi le mie virtù, le mie capacità. Voglio che abbia cervello, che ragioni, che non si illuda su di me, ma che mi dica la verità quando è il momento. Il Signore ci ha dato un cervello per essere pieno della sua sapienza. Giacomo dice, chi manca di sapienza la chiede a Dio. Signore, donami sapienza a me. Ma cosa c'è di più bello che ammettere le proprie insufficienze? Ma perché, fratelli, possiamo capire tutto di Dio? Cosa c'è di più bello? Io prego spesso, Signore, aprimi la mente. Signore, fammi comprendere la tua volontà. Non voglio pregare contro la tua volontà, ma per la tua volontà. Comprendete, fratelli, aprire, ricevere l'illuminazione. Se col cuore lo amo, ma col cervello io ragiono. E quindi desidero che il mio ragionamento sia impregnato della presenza del Signore. Perché poi lo usiamo tutta la vita, il cervello. Ne abbiamo bisogno. Allora il Signore parla loro e dice così sta scritto e così era necessario, voglio terminare, che il Cristo, lui non dice Gesù, è Gesù che parla, dice il Messia. Il Messia doveva morire, l'unico Messia doveva soffrisse e risuscitasse dai morti. E che nel suo nome, nel nome di Gesù, noi possiamo predicare a tutti, ravvediti e riceverai il perdono dei tuoi peccati. Quando parliamo di Gesù agli altri, non dobbiamo mai dimenticare una cosa. Noi gli dobbiamo offrire Gesù a buon mercato. Dobbiamo dire una cosa molto semplice. Guarda, tu hai peccato e anche io. Ma io ho chiesto perdono al Signore e mi sono ravveduto, ossia mi sono pentito dei miei errori e non li voglio fare più. E allora anche tu ti devi pentire. Ma io non ho fatto niente di male. Già sei bugiardo, perché tu sei nato nel peccato, impastato nella cattiveria umana. Se hai detto una bugia, se hai fatto del male a qualcuno, se hai mancato di amare qualcuno, già hai peccato. E non c'è nessuno al mondo, dice la scrittura, che non si debba piegare davanti, non piegherà le sue ginocchia davanti a Gesù. Piegale oggi. Piegale oggi, perché un domani il Signore ti rialzerà. Chi le piega in questo tempo troverà colui in cielo che dirà, bene hai fatto, mio servo fedele. Io le piego tutti i giorni e sono felice di piegarle. Sono felice di piegarmi perché non c'è nessuno più vivo di Lui. Amen. Andiamo dal vivente, fratelli e sorelle. Tutti i giorni, quando ti svegli, buongiorno. Il vivente è con me. Quando ti addormenti, hai delle angosce e delle preoccupazioni. Dio, il mondo intero è nelle tue mani. È nelle tue mani. Signore, sorelle, non vi sarà difficile essere mogli ed essere mamme guardando a Gesù. Mariti, non vi sarà difficile essere mariti e essere padri guardando a Gesù, perché Lui è un esempio perfetto. E anche se ci sarà da fare sacrifici, non saranno sacrifici. Sentirai la mano di Dio che ti sosterrà. Ogni giorno, così è scritto, ogni giorno Lui sarà con me. Ripetilo con me. Ogni giorno Gesù sarà con me. Che meraviglia, lo senti? Io lo sento dentro di me. Sia benedetta la sua parola. Ti leggerò l'ultimo versetto prima di cantare un inno. In Apocalisse, l'ho lasciato in ultimo. Quando Gesù si presenta a Giovanni e dice, non temere, io sono il primo e l'ultimo e l'ultimo. È il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, Gesù è risorto. È la nostra Pasqua, la nostra vittoria. Amen.